Robert Flood nasce a Milgate House nel 1574 e muore a Londra nel 1637, medico, alchimista e astrologo britannico, esponente della corrente di pensiero pre-teosofica. Fu esponente della tradizione ermetico-cabalistica rinascimentale, nonché probabile ispiratore dell'opera Il Paradiso Perduto di Milton, almeno secondo Francis Yeat, come scrive nel suo La filosofia occulta in epoca elisabettiana. Quella che state vedendo è la riproduzione di libri proibiti dell'opera più importante di Flood, La filosofia moisaica, contenente tutto il suo pensiero filosofico, pubblicata postuma nel 1638, restaurata in digitale e riportata agli antichi splendori. Come nell'originale, l'opera rilegata a mano contiene i due frontespizi delle due parti di cui si compone l'opera, incise a colori, più altre incisioni in legno e rame, testatine, finalini e xilografie. Lo trovate nel nostro shop libriproibiti.com